La nostra scuola è all'avanguardia nel settore della nautica, degli impianti elettrici navali, dell'automazione industriale e della robotica e quindi è sicuramente una scelta giusta per il vostro futuro. In questa scuola si studiano anche l'informatica, fondamentale, aggiornamento, e l'elettronica. Qua potete vedere un esempio, è un circuito di carica e scarica per un condensatore. Qua vedete sull'uscilloscopio le forme d'onda che si creano, la carica e la scarica. In questa scuola si studia anche l'inglese specifico a partire dal terzo anno. Ovviamente conoscere l'inglese tecnico può aprire la strada verso nuove esperienze all'estero. Per quanto riguarda l'indirizzo del nostro istituto, se non un indirizzo di elettronica elettrotecnica, si pensava a una curvatura indirizzata principalmente sulla robotica industriale, lo studio del braccio robotico con la possibilità di avere un futuro per i ragazzi, un paddettino sull'utilizzo del braccio robotico e l'integrazione nella parte di automazione con la programmazione dei LC della Siemens S7200 integrati con ovviamente anche la logica cablata dei vecchi quadri con tutti gli autori e apportori di un'auto. Il nostro indirizzo, che è l'indirizzo elettrotecnico, non ha solo quello che è la programmazione classica, ma ci sono una serie di attività, di percorsi e di progetti che approfondiscono alcuni aspetti legati comunque all'elettrotecnica, che sono l'aspetto dell'elettrotecnica vista dall'ambiente nautico, quindi un po' quello che è l'impiantistica nautica e l'automazione in ambiente navale nautico e poi quello che è anche la robotica.